In ripresa al settore del mobile lariano aumentano le esportazioni e anche gli addetti, dati che arrivano in vista dell'apertura del Salone Internazionale del Mobile 2022, in programma a Milano da martedì 7 giugno a domenica 12 giugno. A dicembre 2021 la provincia di Como si è posizionata al primo posto sia nella graduatoria regionale che in quella nazionale per quota di imprese del comparto rispetto al totale di quelle attive. A fine 2021 le imprese del mobile erano 1037, 919 a Como e 118 a Lecco. A livello regionale le aziende rappresentano il 23,7% del totale del settore. Rispetto al 2020 le imprese lariane del comparto sono diminuite dell'1,4% con un calo a Como di 12 aziende, 3 a Lecco. Una diminuzione più decisa si è raffrontata con i dati dell'inizio 2016. Per l'area lariana il calo è stato infatti del 13,9%, pari a una diminuzione di 167 unità. Sul fronte occupazionale il comparto lariano dei mobili conta 7679 addetti e cioè il 2,7% della forza lavoro totale impiegata in loco. I dipendenti delle aziende comasche sono la maggior parte, 7.056, mentre le imprese lecchesi danno lavoro a 623 persone. Anche per quanto riguarda l'occupazione i numeri evidenziano un calo rispetto al 2016 quando a Como per esempio gli addetti erano 431 in più. Il 2021 è stato comunque un anno più positivo. I lavoratori delle aziende lariane sono infatti aumentati del 2% contro il più 0,9% della Lombardia e il più 1,6% dell'Italia. Non diversa la situazione per l'artigianato lariano del mobile che l'anno scorso ha risentito della perdita di alcune aziende. Sono diminuite dell'1,3%. Secondo i dati Istat però l'export mostra dati positivi. Le esportazioni di mobili lariani sono in crescita del 19,4% nel 2021. Como segna un più 19,3% le compiù 22,9%. Il valore delle esportazioni ammonta 10,6 miliardi di euro.